Ciao ragazzi, oggi ci troviamo qui a fare un confronto tra i due top di gamma, a mio avviso, di Android e di Windows Phone. Abbiamo che è l'Umi 1520 per Windows Phone e LG G2 per Android. C'è da dire che sono due categorie di smartphone diversi, una è uno smartphone smartphone e l'altro invece è un phablet, quindi abbiamo un 6 pollici contro un 5 pollici. Le dimensioni di differenza si vedono in quanto abbiamo un'altezza di 138,5 su LG, mentre su Nokia 162,8. Per quanto riguarda la larghezza abbiamo 85,4 per Nokia e 70,9 per LG e per quanto riguarda lo spessore abbiamo un 8,9 per LG e un 8,7 per Nokia, quindi Nokia molto sottile. Per quanto riguarda lo schermo abbiamo un 6 pollici full HD LCD per quanto riguarda Nokia e un 5,2 pollici full HD per quanto riguarda LG G2. Bene, per quanto riguarda la batteria abbiamo 3000 mAh per LG G2 e 3400 mAh per Nokia. Per quanto riguarda la batteria abbiamo lo stesso processore, ossia uno Snapdragon 800 quad core, 2 GB di RAM su entrambi i dispositivi e per quanto riguarda la memoria, per entrambi 16 GB però il Nokia ha la memoria espandibile. Bene, ora passiamo all'aspetto colori del display, già che stavamo parlando delle dimensioni della risoluzione del display. Andiamo quindi in foto e qua andiamo in quick peek, ok, ci siamo qua e ci siamo qua. Allora, per quanto riguarda i neri abbiamo più o meno gli stessi neri su entrambi i dispositivi, in quanto lo schermo è molto simile. C'è da dire che i neri di LG G2 forse sono un peggio più naturali. Per quanto riguarda i bianchi invece, anche qui i dispositivi si equivalgono. Adesso sembreranno più bianchi quelli dell'LG G2 perché abbiamo un display che è luminosissimo, ma in realtà se riuscissimo a mettere la stessa luminosità su entrambi i dispositivi, i bianchi sono identici, entrambi perfetti. Per quanto riguarda i colori, sono più luminosi sull'LG G2 ma vengono gestiti in maniera molto naturale su entrambi i dispositivi. Come potete vedere le varie palette dei colori, adesso questa qua non c'è, eccola qua. Anche qua, come potete vedere, sono bellissimi su entrambi i dispositivi. Parliamo adesso di ricezione telefonica. Vi dico subito che, innanzitutto, non potrò fare la chiamata da Nokia perché non ho dentro la SIM in questo momento e non farò la chiamata neanche da LG G2. Se volete vedere la qualità dello speaker in viva voce potete vedere le recensioni dei singoli telefoni. Comunque vi dico subito che entrambi i dispositivi hanno una ricezione ottima sia in wifi che in rete telefonica. Prendono entrambi il 4G veramente bene. Con team sia su Nokia che su LG G2 ho due tacche. Quindi, come è presa, più o meno si equivalgono. Forse un pelino meglio Nokia, sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda le chiamate, anche qua, come ho già detto nelle varie video recensioni, su Nokia sentiamo e ricevono benissimo. Su LG G2, quando parte la trasmissione di chiamata, quindi l'altra persona mi risponde, all'inizio mi sente metallico, ma dopo pochissimi secondi la voce si aggiusta e perfetta. Anche quindi dal punto di vista delle reti telefoniche si equivalgono questi due telefoni. Per quanto riguarda lo speaker, quindi l'audio, vi dico subito che lo speaker è molto più potente quello del Lumia 1520. Adesso vi faccio sentire quello di LG G2, che comunque ha un audio buono, non è altissimo, ma il sound è molto definito. Adesso vi faccio sentire invece il Lumia, che ha un sound potentissimo. L'audio del Lumia è potentissimo, ma è un po' meno pulito come suono, diciamo. Per quanto riguarda il browser, abbiamo Internet Explorer, Internet Explorer sul Lumia, mentre abbiamo il browser stock di LG. Allora, andiamo su The Verge e andiamo anche qui con il browser stock su The Verge. Ok, qua si sta già caricando. Andiamo sul sito full. Ok, sul LLG abbiamo già il sito full. Come fluidità, come scrolling, come doppio tap, il LG funziona alla perfezione, i comandi rispondono molto 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 bene. Mentre anche il Nokia, come potete vedere, abbiamo lo zoom che reagisce molto bene. Adesso qua non ha ancora caricato tutto. Aspettiamo un attimo. Deve caricare ancora le immagini. Abbiamo il Wi-Fi che va abbastanza lento perché sto caricando un video su YouTube, come sempre. Però, vedete, anche lo scrolling va benissimo. Le scritte su questo schermo si legano davvero bene. Doppio tap funziona benissimo anche qui. C'è da dire che come esperienza di browser, ovviamente avendo un display da 6 pollici full HD, di Nokia Lumia, dà più emozioni, è molto più bello. Ha un display veramente grosso, luminoso, molto definito. I colori sono gestiti benissimo. Quindi, ovviamente, per quanto riguarda la navigazione browser, sarà meglio navigare su un Lumia 1520. C'è da dire però che quando porteremo in giro questi due telefoni, per quanto riguarda l'LG, non avremo problemi perché comunque ormai è una misura standard. Mentre per quanto riguarda Nokia Lumia 1520, in alcuni pantaloni non ci starà neanche nelle tasche. Quindi, bisogna vedere gli aspetti positivi e negativi di questi telefoni. Per quanto riguarda le fotocamere, abbiamo su entrambi i telefoni fotocamere ottime, ma con questo Nokia Lumia 1520 non può competere nessuno, in quanto abbiamo su entrambi lo stabilizzatore ottico, ma in Nokia Lumia hanno questa applicazione che è Nokia Camera, su cui puoi gestire veramente tutti i parametri, quindi ISO, aperture, tutte le cose, e scatta foto con sensori Zeiss, Purview, quindi ovviamente la risoluzione è fantastica, come potete vedere. Si può zoomare tantissimo, non sgrana quasi niente, il vetrino è limpidissimo di Buzz. Mentre per quanto riguarda l'LG G2 abbiamo comunque foto ottime, ma non a livello di un Lumia, diciamo, di un Lumia 1520. Anche qui comunque l'applicazione fotocamera ci permette di gestire ISO, la messa a fuoco e tutto, quindi anche qua applicazione molto completa, e fotocamera comunque ottima, perché anche qua possiamo zoomare molto e rimane comunque molto cristallina l'immagine, però come risoluzione, se noi poi le mettiamo, e come gestione colori, se noi le mettiamo su uno schermo di un computer, per esempio, si nota la differenza, qua i colori sono molto più realistici rispetto che su un LG G2. Quindi per quanto riguarda la fotocamera, secondo me non ci sono telefoni che possano battere i nuovi Lumia. Per quanto riguarda i giochi, non ho giochi da paragonare su questi dispositivi, ma vi dico che girano alla perfezione su entrambi. Non ci si può lamentare di nulla, il gioco ovviamente sul Nokia Lumia 1520 è più bello, perché hai uno schermo molto più vasto, quindi hai uno schermo a disposizione per il gioco molto più vasto rispetto a che su un LG G2, però su entrambi l'esperienza di gioco è ottima. Batteria, entrambi i dispositivi mi durano una giornata intera, quindi che dire ragazzi, sono due dispositivi diversi, quindi dipende dalle caratteristiche che cerchiamo. Se cerchiamo un telefono portatile, potentissimo, con un display fantastico, allora vi consiglio l'LG G2, che secondo me è il miglior Android per adesso sul mercato. Mentre se vogliamo un display con prestazioni elevatissime e un display fantastico, ma dalle dimensioni grosse, quindi parlando di un 6 pollici, vi consiglio di prendere appunto il Nokia Lumia 1520. Io personalmente opterei su un LG G2, poi ognuno ha le proprie opinioni. Spero di aver detto tutto su questi due telefoni paragonandoli. Se avete bisogno di qualsiasi informazione, scrivete nei commenti, se vi è piaciuto il video, pollice in su. Ci vediamo alla prossima con un confronto tra i diversi sistemi operativi, quindi Windows, Mobile, Windows Phone, Android, BlackBerry e forse anche iOS, se riesco a procurarmelo. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima da Daniele.